Dopo due sconfitte consecutive l'Anarnese torna al successo al Moreno-Gubbiotti 2-0 sul Castel del Piano, reti segnate entrambi nel corso del secondo tempo. Nell'Anarnese ancora indisponibili Bagnato, Rocchi e Tancini, i quali si sono aggiunti Kunzi, infortunatosi a Santa Maria degli Angeli e Pinzaglia. Tra gli ospiti assente per squalifica Camilletti, espulso a Sanzisto, arbitra Aloi Di Gubbio. Dopo due minuti ospiti subito pericolosi, Mancinelli servito da Sisani da dentro l'area, tira forte ma centrale, palla bloccata a terra da squadroni. Al nono la replica dell'Anarnese, passaggio filtrante di Zar per Leonardo lasciato libero di calciare con la palla non molto lontana dal palo alla sinistra di Guerra. Al ventiquattresimo punizione da posizione defilata di Paradisi, squadroni non azzarda la presa e mette in angolo. Al trentunesimo il corner per la Narnese, pericolosa con Quondam che salta bene e schiaccia un pallone che sfiora il palo. Al trentacinquesimo Zar ci prova da fuori area centrale Paraguerra. Al quarantatresimo occasione per la squadra di Cardinali, Mancinelli anticipa squadroni ma poi non inquadra lo specchio della porta. Finisce il primo tempo con il nulla di fatto, 0 a 0. Nella ripresa si riparte al quarto con un'azione personale nei 16 metri di Silveri che si libera bene ma calcia debolmente. Bisogna arrivare poi al venticinquesimo per trovare un'altra occasione, nel frattempo diverse sostituzioni con Sabatini che gioca le carte Raggi e Sissoko. Ma è il Castel del Piano andare vicino al vantaggio, ripartenza della squadra di Cardinali. Moscatelli arriva in area ma viene contrato all'ultimo da Grifoni, la palla arriva così docile tra le braccia di squadroni. Al ventinovesimo Narnese in vantaggio, Quondam azione dal fondo, salta un avversario e la mette per Raggi che batte l'incolpevole Guerra. Al trentesimo tiro di Quondam, Guerra non trattiene e Sissoko sfiora il raddoppio. Raddoppio che arriva 5 minuti dopo. Al trentacinquesimo proprio Sissoko, servito da un passaggio in verticale di Quondam, angola bene e supera Guerra. E' il primo gol in maglia rosso-blu per l'ex Ternana Primavera. L'ultima occasione, nell'ultimo minuto di recupero, al cinquantesimo per gli ospiti per Paradisi, ma squadroni riesce a salvare. Finisce così 2-0 in favore della Narnese. Mister, un giudizio sulla prestazione dei suoi? La prestazione penso che sia stata molto positiva. Venire a giocare a Narni non è mai semplice. Abbiamo tenuto botta tranquillamente, abbiamo creato le occasioni per andare in vantaggio, sia nel primo che nel secondo tempo. Poi dopo, su un'azione dubbia, mi dicono, si è aperta la partita e lì per noi la vita si è un po' complicata. Però ai ragazzi li devo solo invitare a continuare a lavorare come stanno facendo e a cercare di lavorare, di prestare più attenzione in qualche situazione dove possiamo concedere qualcosa. Stefano Pace, preparatore atletico della Narnese, torna la vittoria alla squadra Rosso-Blu, lo fa poi nel secondo tempo con due gol di pregevole fattura. Sì, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e così si è dimostrata. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, attenti, concentrati e sapevamo che poi magari un episodio avrebbe potuto sbloccarla. Siamo stati bravi nel farlo, anche devo dire che con due belle azioni, due bei gol. Siamo contenti, dovevamo un po' riprenderci dalla sconfitta di domenica e diciamo così, abbiamo risposto bene, risposto bene. Credo che il mister sarà contento, dopo ci parlerò un attimo che è sotto la doccia. Penso che la squadra ha risposto agli stimoli che in questi giorni, pochi giorni, perché abbiamo avuto pochi giorni, il mister aveva cercato di dargli.